Ciao ragazzi e benvenuti in questo video, oggi non so come iniziare questo video, non so bene che cosa dire ma è il video speciale per i 10.000 iscritti siamo arrivati a 10.000, anzi già l'abbiamo superato ormai di un centinaio, 200 persone circa non potete capire quanto sono contenta è un piccolo risultato, anche se siamo in tante perché 10.000 sono veramente... siete anzi, siete tantissime l'unica cosa che voglio dirvi in questo video è grazie, grazie per esservi iscritti al canale grazie per continuare a seguirmi, grazie per perdere il vostro tempo per seguire i miei video per mettere il pollicino lì in su o per lasciare il commento sotto al video, mi fa un sacco piacere non immaginate veramente quanto posso essere contenta di vedere quel numero scritto lì quando apro YouTube, 10.000 che c'è una cifra in più è veramente un grande risultato per me, è uno di quegli obiettivi che posso spuntare diciamo è il primo grande obiettivo che ho raggiunto qui su YouTube quindi sono veramente contentissima ormai credo di aver aperto il canale nel 2014 quindi sono diciamo tre anni, ci ho messo un bel po' di tempo per raggiungere questo numero ma sono veramente contenta perché mi sto veramente impegnando tantissimo per far crescere il canale ovviamente è benito vostro che vi iscrivete se il canale cresce quindi grazie veramente con tutto quanto il cuore spero ovviamente che nel futuro possiamo diventare sempre di più e che questa sia una grandissima e bellissima community come adesso perché siete veramente delle ragazze fantastiche lasciate sempre dei commenti carinissimi, siete sempre gentilissime con me vorrei abbracciarvi tutte quante e darvi un grandissimo bacione perché quando leggo tutti i vostri commenti sotto al video sono veramente contentissima ragazze lo so che magari sembro una cretina in questo video però ci tengo davvero a ringraziarvi perché siete veramente delle ragazze fantastiche lo so che nel mondo di internet c'è tanto odio insomma si sentono tante cose in giro per il web tante persone cattive ma io non potrei essere più fortunata perché ragazze mi capita veramente pochissimo siete delle followers fantastiche non potrei chiedere di avere una community migliore perché siete veramente veramente fantastiche lo so che ho ripetuto la stessa cosa per 5 volte all'interno di questo video però ci tenevo veramente tanto a ringraziarvi e per questo c'è una sorpresa per voi voglio fare il primo giveaway qui sul mio canale e voglio regalarvi aspettate che la prendo una palette di Morphe Brushes questa qui è la mia la vostra ovviamente è limpida, intoccata però vi faccio vedere la mia così la posso toccare e vi posso swatchare i colori e farveli vedere questa qui voglio regalarvi questa palette che è fantastica io l'ho acquistata poco tempo fa mi sono praticamente innamorata e voglio tipo tutte quante le palette di Morphe perché sono una cosa fantastica è leggermente polverosa ma i colori sono veramente super intensi quindi quel pizzico di polverosità in più dell'ombretto va bene lo sopporto perché i colori sono veramente super pigmentati e mi piace tantissimo con questa palette potete realizzare qualsiasi tipo di look da quello più naturale come magari naturale insomma però avete capito come quello che ho fatto io oggi potete realizzare degli smokey eyes che siano più freddi o più caldi più bronzati più ramati dorati c'è un pochino di tutto in questa palette e la fila qui sopra è tutta quanta di ombretti opachi quindi avete i vostri colori di transizione e i colori con cui potete scurire l'angolo esterno dell'occhio e un nero che potete utilizzare sia per fare una riga di eyeliner sia per andare ad intensificare tutti quanti gli ombretti che ci sono all'interno di questa palette come vi ho detto mi sono innamorata di questa palette quindi ne ho presa una anche per voi spero insomma che siate contenti e che parteciperete al giveaway vediamo adesso insieme le regole del giveaway si potrà partecipare al giveaway fino al 31 di agosto alle ore 23 e 59 tutti i commenti che verranno lasciati poi ovviamente non saranno conteggiati potete lasciare un massimo di un commento al giorno potete scrivere quello che volete potete anche mandarmi a quel paese potete lasciare un cuoricino potete lasciare una linguaccia potete lasciare quello che volete però ricordatevi di non superare un commento al giorno altrimenti sarete squalificate dal giveaway dopo il 31 agosto ovviamente sorteggerò a casa una ragazza che vincerà questa fantastica palette e che gli arriverà direttamente a casa sono troppo contenta di fare questo giveaway è il primo quindi non so se vi piaceranno appunto le regole che ho messo mi sembrano stupida sono esaltatissima ragazze sono super contenta però ci tenevo appunto a fare questo giveaway come tutti quanti i video quando inizio a girare c'è il tizio che taglia l'albero qui fuori ho praticamente vicino casa tutti quanti i pini e ogni volta che inizio a girare un video iniziano a tagliare un albero sembra che gli mando un messaggio di quando inizio a girare loro iniziano a tagliare l'albero mi raccomando ricordatevi di rispettare le regole le scriverò qui sotto così almeno potete rileggerle e non potete sbagliarvi estrarò poi una persona a sorte e la contatterò privatamente se la persona non mi risponderà entro una settimana contatterò la seconda estratta e così via lo so che vi avevo promesso per i 10.000 il Q&A cioè domanda e risposta però ho deciso di fare questo video soltanto per ringraziarvi e con il giveaway quindi il prossimo video sarà il video Q&A cioè rispondo alle vostre domande quindi avete ancora tempo per lasciarmi le vostre domande con l'hashtag AskGiulia qui sotto il video o potete chiedermelo su qualsiasi altro social sono dappertutto facebook, instagram, twitter e snapchat non ce l'ho perché non so come si usa anzi fatemi sapere se mi vorreste vedere su snapchat che magari provo ad iniziare ad utilizzarlo vediamo un attimino fatemi sapere se lo utilizzate come social se vorreste vedermi anche lì perché in realtà il profilo ce l'ho ma non l'ho mai utilizzato perché non ho mai capito come si usa quindi ragazzi non posso fare nient'altro che ringraziarvi ancora una volta siete veramente fantastiche vorrei abbracciarvi a tutte quante spero un giorno di poterlo fare vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao